Noi siamo il liceo scientifico Carlo Alberto di Novara. Nella nostra scuola è attivo dall'anno scolastico 2016-2017 l'indirizzo 1-to-1, grazie al quale noi ragazzi usiamo l'iPad per studiare tutte le materie, con un approccio più innovativo e multimediale. Tutte le aule 1-to-1 e i laboratori sono dotati di libro e nei corridoi abbiamo gli armadietti per il nostro materiale. In prima, durante le lezioni in informatica, gli studenti si esercitano a realizzare documenti di testo utilizzando Google Docs. Nelle altre classi, gli studenti si esercitano a progettare algoritmi e a sviluppare programmi utilizzando MobileSea. In prima, con il foglio Numbers, vengono simulati esperimenti come il lancio di 3 dadi e di 6 monete. Come si vede da questa mappa realizzata con Poplet, si vuole far calcolare la probabilità come frequenza relativa. In seconda, vengono eseguiti da gruppi di alunni semplici esperimenti in cui si prendono delle misure. Ogni gruppo registra un video con iMovie e lo mostra tutta la classe, che ne controlla la veridicità. In seconda, con Quizlet e WeSchool, proviamo alcune attività diverse per svecchiare il sempre amato Manzoni. In quarta, i ragazzi realizzano presentazioni keynote su Shakespeare. A piccoli passi, stiamo insomma provando a realizzare una scuola più moderna. Grazie per averci ascoltato.